Nuovi sensi di marcia e polemiche a go-go. Il nuovo piano urbano di mobilità del Comune di Gela, che ha portato nei giorni scorsi al cambiamento di diversi tratti delle arterie stradali cittadine, in particolare quelle che ruotano attorno al centro storico, hanno scatenato un putiferio di polemiche contestazioni. Fino al punto da indurre un partito, l'UDC locale, ad intimare una petizione popolare per indurre l'amministrazione comunale a ritornare sui suoi passi, almeno per ciò che riguarda il tratto di Corso Salvatore Aldisio che va dai quattro canti e che porta fino alla villa comunale Garibaldi. Prima a doppio senso di circolazione ed ora a senso unico, nella fattispecie solo a scendere verso la piazza principale. Una vicenda che, tra le altre cose, conferma come in questa città non si possa proporre nulla di nuovo, a prescindere dai benefici che queste novità possano eventualmente produrre, che immediatamente, ed in via preventiva, a scattare per prima e senza averne verificato la bontà delle decisioni, sono le proteste e le polemiche, a volte anche feroci. Oddio, qualche erroruccio e qualche inevitabile correzione va assolutamente apportata alle scelte imposte dall'amministrazione comunale, ma chiedere ogni volta le dimissioni in massa dell'intera giunta che governa la città ad ogni piezzo spinto francamente ci sembra esagerato ed oggettivamente anche e soprattutto strumentale. Tornando invece alle novità in ambito di traffico veicolare in città e le ripercussioni pratiche ed anche ideologiche che ne sono scaturite, l'argomento è stato al centro della puntata di Agora andata in onda ieri sera su canale 10. Il rotocalco settimanale della nostra redazione giornalistica ha ospitato un parterre ricco e titolato. Assieme al conduttore infatti hanno impreziosito il salotto televisivo di Agora due amministratori, altrettanti rappresentanti dei comitati di quartiere, un politico ed il presidente del consorzio di commercianti del centro storico. In particolare a dibattere dell'argomento del giorno che sta tenendo banco in città sono stati l'assessore alla viabilità del comune di Gela e Eugenio Catania che nel difendere il nuovo piano di mobilità urbana si è comunque reso disponibile ad addivenire a quelle correzioni che si riterranno opportune e quindi l'assessore ai lavori pubblici Flavio Di Francesco che invece ha risposto alle tante esigenze che i vari quartieri cittadini hanno esposto attraverso i loro massimi esponenti dei comitati rispettivi. E quindi i presidenti dei comitati stessi, ossia quello del centro storico Giuseppe Filetti e di Macchitella Livio Aliotta. A completare il nutrito parter di ospiti il segretario cittadino dell'Udc e proponente della raccolta di firme per abrogare parte del nuovo piano di mobilità urbana, ossia Toto Incardona, ed il presidente del consorzio Gela Centro Valentino Granvillano. Ad aprire l'interessante puntata di Agora l'altrettanto interessante scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro. Chi volesse rivedere questa interessante trasmissione di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che come sempre riguarderanno Gela ed i Gelesi.